Innanzitutto andrò a scusarmi con il ristorante Alfredo che è un'istituzione cittadina e lo pregherò di portare le mie scuse anche ai suoi clienti e poi adotteremo il pugno di ferro nei confronti di quei locali, in questo caso il bar accanto Alfredo in via Collalto che è evidente non è in grado di gestire la propria clientela. Una rissa ogni fine settimana o poco ci manca tanto che il sindaco di Treviso Mario Conte contro il dilagante abuso di alcol che sarebbe puntualmente all'origine di litigie scazzottate intende coinvolgere direttamente la prefettura. L'ultimo grave episodio in ordine di tempo sabato sera in via Collalto laterale di corso del popolo con due gruppetti di ragazzi che si sono affrontati davanti al bar. Un giovane colpito al naso è rimasto a terra sanguinante. Di fronte a questo parapiglia i clienti del ristorante Alfredo hanno ammesso di aver avuto paura e di essere rimasti chiusi nel locale fino all'arrivo della polizia. Alterati dall'alcol e vivaci un po' per l'età poi creano situazioni di disagio che non sono in alcun modo tollerabili, sono anche pericolose tant'è che uno è finito addirittura in ospedale. Io ho già dato mandato al comandante Gallo di verificare tutto quello che possiamo fare per mettere la parola fine a questo tipo di comportamenti. Dietro alla scazzottata ci sarebbe un debito non pagato di 500 euro ma Conte punta il dito contro l'eccesso di alcol che toglie ogni freno. Cercheremo di capire innanzitutto coinvolgendo le associazioni di categoria che devono responsabilizzare i gestori perché l'ho detto in occasione della rissa successa domenica scorsa e lo ripeto oggi, chi non è in grado di gestire la propria clientela un esame di coscienza se lo deve fare, deve essere anche ritenuto responsabile di quanto succede. Anche in via Collalto Cassugana potrebbe decidere di intervenire con un'ordinanza come in via Zenson di Piave. Certamente un'ordinanza di limitazione degli orari perché è di nostra competenza ma chiederò anche un intervento da parte della questura per valutare se ci sono problemi di ordine pubblico. Ubriachezza che il dai là anche ad atti vandalici come quelli messi in atto sempre sabato notte tra riva Comisso e via Manin con cestini dell'immondizia e vasi portapiante schiantati a terra. Responsabile un soggetto straniero già identificato dalla polizia locale e denunciato. Mi sono anche confrontato con il prefetto perché capita spesso che queste persone risultino alterati a tutte le ore del giorno. Però è una situazione che va gestita.